Niente ragazzi, quest'anno Baby Kay sta facendo di tutto, di tutto per assicurarsi il posto da regginetta dell'estate, ma veramente ragazzi, implacabile, la fermate per cortesia, ma che c'ha, ma che c'ha quest'anno, tanto comunque, cioè, la passano la radio, eh, e ci ha provato prima con, col pezzo mezzo spagnolo, mezzo italiano, un po' è andato, un po', eh, molto meno del solito, perché non ha convinto, perché l'italiano vuole l'Italia, vuole solo l'Italia l'estate, non vuole niente che sia spagnoneggiante, perché ce ne stanno troppe, da quel lato, latinoamericano, cioè, poi fai la versione latina e spagnola, ma la fai dopo, non subito, e quindi un attimo, già così, eh, Baby Kay con, con primo tentativo, non l'ha visto, eh, proviamone un altro, un altro ancora, boom, da basci, giustamente perché da sola la hit, ci la fai, tu sei la regina, però, ti serve sempre l'appoggetto, no, non vuole rischiare, quest'anno sta molto insicura la Baby Kay nazionale, e allora che fa, boom, da basci, ovviamente, beh, la devono fare pure loro, che cazzo, che si attaccano al treno in partenza, ti chiama Baby Kay, ti dice, facciamola in testiva, che fa, non ti attacchi, ti attacchi subito, come una sanguisuga, e non solo viene lanciato il tutto come singolo, ma anche nell'album, quindi, praticamente, un doppio lancio dello stesso brano, terrorizzata, che magari non arriva al pubblico giusto, non voglio commettere un errore, diciamo, dal punto di vista logistico, avrà pensato, facciamo che tutto fa brodo, facciamo girare sta cazzo dei canzoni, e, ecco, this is Baby Kay, oltre, over the top, proprio, la canzone è un miscuglio di banalità, lei parte con la frase più banale, proprio, che si può dire nella hit estiva di turno, cioè, dimmi che, cosa importa se, no, queste sono le rime, no, e dimmi che, che cos'è questa musica, cioè, ti amo come l'Italia, una cosa del genere, c'è proprio, è arrivata a fare pure il lecchino, alla lecchino, come si dice il lecchino, una donna che fa il lecchino, sempre, insomma, a fare, non lo so, vabbè, comunque, a prostrarsi alla nazione, dove vuole arrivare, cioè, proprio, siamo oltre, i bundabasci che, probabilmente, hanno detto qualche frasetta, neanche loro sanno come, quando, perché, gli avranno detto, tu dici questa, tu dici quest'altra, il ritmo è latino, è calzante, e andiamo, dai, buttiamola lì, non convince, è veramente un miscuglio, ma quest'anno un po' tutte le hit estive, sono tutte quante forzate, cioè, a un certo punto, la gente, pretende quello, tu glielo dai, però, non, non è, quest'anno, mi sa che, ci do che ascoltare Malibu, di San Giovanni, fino a settembre, mi sa, sta canzone, proprio, non convince nessuno, cioè, perché sono tutti i tentativi beceri, non ci sta quella che dici, cazzo, è arrivata, ci sta, voliamo, no, non c'è, quest'anno non c'è, forse pistolero di eletta Lamborghini, ragazzi, ma almeno una volta le hit estive, c'avevano, c'avevano le palle quadre, l'anno scorso ce ne sono state tante, tante particolari, ci manca il Rama, quando la fa il Rama, la hit estiva, che fa, non me la fa più, mi è diventato un cantante serio e basta, alzo le mani, almeno lui le faceva di qualità. Grazie a tutti.